Oggi è proprio una giornata importante, anzi molto importante perché è il riconoscimento all'idea ma soprattutto al lavoro che ha portato alla realizzazione di dieci edizioni di mattinate per le scuole. Nata in Sordina appunto dieci anni fa, la prima edizione era soltanto a Trieste, poi l'anno successivo si è allargata a tutta la regione e cinque anni fa è diventato un progetto nazionale con il contributo fondamentale e importantissimo del Ministero, quindi un riconoscimento a tutti i volontari appunto. È bello questo aspetto del volontariato, si fa tanto, in questo caso sono state coinvolte le scuole, quindi in primis gli insegnanti e poi i ragazzi, più di diecimila ragazzi in questi anni, quindi veramente un lavoro enorme ma un lavoro che ha dato tanto soddisfazione perché la prima cosa che dobbiamo dire è che siamo veramente stanchi, siamo stupidi di sentire dire che la scuola non funziona, che i ragazzi non hanno voglia di fare perché noi abbiamo scoperto oltre che luoghi bellissimi da aprire, che abbiamo appunto aperto agli studenti ma anche tanti insegnanti veramente molto bravi e che hanno dato veramente tempo ed energia a questo progetto e poi anche tanti tanti ragazzi. Io vi posso dire per testimonianza diretta che molte volte alla fine delle giornate i ragazzi non hanno più voce, hanno dato tanto, hanno imparato tanto ma hanno dato tanto. Hanno imparato tanto che cosa vuol dire? I ragazzi imparano prima di tutto la storia, l'arte, quello che andranno a mostrare ai loro coetanei, ai loro compagni di scuola.